ciao a tutti signore e signori sono il vostro angolo di rudi porco d'inci e una cosa guardate c'ho una cagna di sono una cosa strabordata guardate ho fatto fatica guardate bestia ho fatto la fatica bestia ho fatto porco di quel porco d'inci proprio porco d'inci sono strabaccato o meglio strammucato su lettera sono vallate a quattro spati nella roba vallate da tre tempi strabordata oserei dire ho questa staccagna di sono bisantina vallate la cosa ragazzi guardate mi chiedo il vostro aiuto perché sono veramente stanco sono veramente stanco e questa cagna di sono feroce porco d'inci e la cagna di sono feroce ciao ragazzi ora chiudo gli occhi e mi impennicherò